Buonasera. Buonasera. La nonna Immacolata. Buonasera. Grazie. La nonna già è famosa sopra YouTube. È vero che siete già famosa? Ecco. La nonna ci deve fare qualcosa che solo lei sa. Nessun altro sa. Che cosa sono, nonna Imma? Che cosa sono? Oradione e Santa Lucia. Perfetto. Allora, cominciate. Santa Lucia. Santa Lucia, mi piace un marte spai. Non ci s'apagnava. E manca s'impunva. Pasava lui rui. L'avete dando bui. E vissalui. Abui Santa Lucia. La scela per la dò e pilla la me. La per la me. Nulla la scuma. Non ci siamo eardari. Rintalo fuori. Rintalo fuori. Perché dentro la formaggio. Non ci siamo eardari per vostra pace. Santa Lucia. Se caccia lui e se mette un bacino. Portatela al loro re che sono sui. Loro re. Cattando lui. Se è cattando minato. Pilla loro sui. E se ne andate un palazzo. Cara Lucia. Non mi spero niente. Brava, nonna Imma. Bravissima. Buon dia. Grazie a tutti.